Who's the master in game? He's video game Darling Who has the coolest name? He's video game Ciao a this video Allora, dove eravamo rimasti con una story about my uncle? Eh, dobbiamo sempre cercare il nostro zio e... E vediamo se riusciamo In qualche maniera a... Aaaaaaah Cadiamo in aria Dovremo studiare una mossa Potremmo andarci sopra il cubo Aspetta, eh Andiamo... Atterro sul cubo, sì, ecco Ok, dai Facciamo così Che andiamo di cubo in cubo Ecco, siamo sopra questo cubo Dai, pian piano Potremmo anche farcela Nooo, l'ho mancato Liscio, liscio, casco Ecco, niente Eh, bisogna rifare da capo Non è così lontano come sembra Non è così lontano come sembra Dai Ecco, quando sono sopra è la cosa migliore Sì Benissimo Ora provo con il... C'è abbastanza E' uno E' due Tre Da bene Sono qua sopra Ok Potrei prendere quello là Trasporto Questo No, no Liscio, liscio, liscio Uffa Dunque, lì Quello lì non me lo vede Quale mi vede? Mi vede quello lì in alto Mi c***o No Sto andando Sì, me l'ha visto questo Oh Sì, 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 sì No 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 Era già arrivato No Questo Questo Provo Sono ancora troppo distante Cavolo Ok Sono qua sopra Che lavoro Dai Adesso sì Adesso di sì Adesso sì Che ci arrivo Ok Adesso non facciamo cavolate E' qua Se saltiamo Qua Ci sono degli appigli Paura Adesso c'ho paura Adesso c'ho paura Andar di là Dove cavolo Devo andare Ah, posso usare quello? No Da qua mi fa un pa... Ma voi siete scemi Cioè, da qua mi rimettete Ragazzi adesso sono qua vicino Proviamo a vedere Sì, sì Ok Ci sono arrivato Adesso il problema Dopo è la... La sopra Aspetta Adesso da qua Per arrivare là in alto Che brutta storia E' qua Oh No, no, no estoy going around Wow Come è questo? è venuto il terremoto immaginavo che usavano i cristalli il sorgente del pietro ho deciso che devo tornare indietro come ho deciso che devo tornare indietro? che senso? e indietro usando queste cose qua? stai scherzando? ditemi che sta scherzando questa cosa qua devo usare quei cubetti per tornare indietro? sì ma non ce la farò mai ok Grazie. Oh, che cavolo. Madre. Oh. 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 Grazie a tutti. Non ce la posso fare ora. Sì 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 Ragazzi, fermiamoci un attimo Ragazzi, fermiamoci un attimo Concentrazione Ho paura Ho paura a fare qualcosa di sbagliato adesso Ok No, 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 no No Dove sono? Un attimo Ma no, 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 ragazzi Sono giusto Allora me l'ha mantenuto Sì, sì, sì Me l'ha mantenuto Come è? Ok Allora arrivo fino qua Ok, da qua allora bisogna Può essere un aggancio per assorbire energia dai cristalli e ricaricare i lampini Allora ragazzi Mi fermo qua Poi continueremo la prossima volta Anche perché la parte dei cubi sospesi è stata estenuante Ci ho messo delle ore Poi nel video taglierò Farò una parte molto corta Perché ci ho messo veramente un sacco per risolverla Continua la prossima volta Ciao da svidio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti